Bentornati su Veggie Channel, siamo oggi in collegamento con un ospite speciale, Giulia Innocenzi, nota giornalista d'inchiesta che con tanto coraggio ha saputo denunciare numerosi avvenimenti che succedono negli allevamenti intensivi. Oggi però vogliamo parlare con lei del suo nuovo documentario che è stato presentato recentemente addirittura al Parlamento europeo come prima proiezione, vero Giulia? Assolutamente sì, esatto. Come è andata questa proiezione nel posto più indicato possibile? Insomma, meglio di così non potevi iniziare. Sì, è stata veramente una partenza bomba, come ho detto anche al Parlamento europeo e soprattutto gli eurodeputati che hanno presentato domanda per mostrare il film non avevano visto il film. Questo l'ho trovato veramente una grande forma di libertà di espressione che questi tre eurodeputati, Ignazio Corrao, Tilli Mezzi e Francisco Guerreiro, ci hanno permesso di fare questo anche perché nel film noi mostriamo dei loro colleghi filmati di nascosto da un lobbista. Quindi temevo magari che si pentissero della loro disponibilità, invece sono stati felicissimi, ci hanno ringraziato tanto, erano orgogliosi di quello che avevano fatto perché il film denuncia i sussidi europei che vengono dati agli allevamenti intensivi ogni anno. Parliamo di miliardi e miliardi di euro, basti pensare che la politica agricola comune vale quasi 400 miliardi di euro in sette anni, di questi la maggior parte dei fondi va agli allevamenti intensivi in maniera diretta o indiretta e quindi è quello che vogliamo denunciare con Food for Profit. Quanto tempo ci hai voluto per realizzare questo lavoro? In realtà cinque anni da quando mi è venuta l'idea tutto, sei e poi dopo cinque di partenza vera e propria con le investigazioni e le inchieste coordinate dalla LAV negli allevamenti di vari paesi europei e più l'indagine sotto copertura proprio a Bruxelles, nel cuore dei luoghi dove vengono prese le decisioni. È stata un'inchiesta durissima, ci abbiamo messo tantissimi anni anche perché abbiamo trovato tantissimi ostacoli. Alcuni diciamo che non dipendono da nessuno, per esempio il Covid, altri purtroppo tante porte chiuse in faccia, piattaforme che ci hanno detto di non essere interessate per tutta una serie di motivi legati anche alla politica e altre cose e le beghe legali, beghe legali infinite, abbiamo già ricevuto una prima di fida da un'azienda coinvolta nelle inchieste e quindi non è quel tipo di documentario che un grande produttore ha voglia di metterci sia a lavorare perché è un documentario molto problematico e quindi io e Pablo abbiamo dovuto costituire una società apposita che si chiama La Pueblo Unido, abbiamo voluto dare un po' un nome che rappresentava quello che stavamo facendo per poter portare alla luce questo documentario che infatti viene distribuito con una distribuzione totalmente indipendente. Infatti voi sul sito chiedete espressamente alle persone che si interessano se hanno la possibilità di organizzare una proiezione, di contattarvi. Questo è molto bello perché poi con il passaparola effettivamente si possono fare tante proiezioni in posti anche molto importanti, noi stessi ci siamo dati da fare per organizzarne una, infatti ad aprile comunicheremo sul nostro sito quando, è il luogo esatto e avremo a Roma per una proiezione tutta nostra. Sì e Massimo devo dire che mi ha proprio commosso la risposta dei cittadini perché andare adesso sul calendario delle proiezioni di Food for Profit stiamo veramente coprendo da Italia, da Norte, tutto sta veramente scoppiando e devo confessarti quando ci è arrivata la prima donazione perché noi chiediamo un aiuto per la distribuzione e anche per coprire i costi della produzione perché ancora non li abbiamo coperti tutti, siamo sotto di qualche migliaio di euro, quando è arrivata la prima donazione mi è scelta una lacrima, mi sono commossa perché sapere che ci sono così tante persone che capiscono, condividono il potere delle immagini e siamo tutti a batterci per la stessa causa che quella dei diritti degli animali, della salvaguardia dell'ambiente, del nostro pianeta ma anche della nostra salute veramente mi ha commosso e questa risposta enorme che sta arrivando è incredibile, mi fa pensare anche un po' che probabilmente il periodo storico è quello giusto, secondo me in questi anni potremo fare tantissimo per questa battaglia. Assolutamente, sì è un momento molto particolare. Ecco io volevo chiederti ma noi siamo abituati a vedere le tue inchieste sempre molto pungenti, molto professionali eccetera ma rispetto a quelle, questo lavoro che cosa apporta in più, qual è la differenza a parte il taglio europeo, internazionale? Questo documentario è il primo documentario che mostra in una maniera lampante degli intrecci e legami che ci sono fra i politici che dovrebbero rappresentarci e che devono fare le leggi che poi sono in vigore per tutti noi e i lobbisti legati all'industria della carne. Mai era stata fatta un'inchiesta di questo tipo, ci è voluto tanto tempo e tante energie e risorse per poterla fare e quello che si scopre è che purtroppo i politici europei, almeno quelli che sono stati investigati, sono ostaggio dei lobbisti. Il lobbista va a bussare alla porta, gli propone delle cose orribili come ha fatto il nostro lobbista, per esempio maiali a sei zampe, mucche con due organi sessuali per aumentare la produttività dell'allevamento, un tubo nel retto della vacca per ridurre le emissioni di metano, tutto questo all'interno di un fantomatico quadro di gene editing, sono tutti progetti inventati, non è vero niente e questi eurodeputati non solo ci credono che già erano interessati, erano molto interessati sì. E hanno detto non ho pregiudizi, capiamo come posso aiutarvi e per l'emendamento del tubo nel retto c'è anche chi ha detto non vedo problemi, se i miei colleghi lo appoggeranno come penso che sia, lo porteremo avanti, vediamo dove lo agganciamo e cose di questo tipo. Per me è abberrante. Questa parola che va adesso un po' di moda, il greenwashing, è qualcosa che tu hai riscontrato in molti politici, in molte aziende che hai cercato di contattare, nel senso queste facciate finte, di finta ecologia che le aziende vogliono darsi per aumentare il loro fatturato, è un qualcosa che hai riscontrato molto spesso? Assolutamente. Allora ti faccio un esempio concreto, in Spagna abbiamo investigato il settore della carne di suino, purtroppo la Spagna è un grandissimo produttore di carne di suino e ormai le aziende hanno aperto tantissimi allevamenti in una regione desertica che si chiama Mursia, che tutto dovrebbe fare purché allevamenti intensivi, perché sappiamo che gli allevamenti intensivi consumano tantissima acqua e purtroppo inquinano tantissimo anche le falde acquifere. Bene, l'azienda proprietaria dell'allevamento che abbiamo investigato, dove i maiali sono tenuti in condizioni pessime e ci sono questi vasconi dei liquami in quella zona che non hanno nessuna copertura né di plastica né di cemento, niente, sono vasconi di liquami nel terreno e quindi c'è un problema di infiltrazione altissimo, tant'è che in quella zona lì c'è stata per ben due volte la moria di pesci nel Mar Menor, che è una laguna che affaccia sul Mediterraneo. Ecco, questa azienda qui che fattura centinaia di milioni di euro di fatturato l'anno, sul suo sito, tra le parole chiave della sua azienda c'è sostenibilità e benessere animale, che purtroppo sono delle parole che sentiamo sempre associate agli allevamenti intensivi e chi conosce la materia sa benissimo che negli allevamenti intensivi non c'è nulla di sostenibile e men che meno di benessere animale. Nel tuo lavoro di inchiesta, nel tuo scoprire, andare a incontrare queste persone, quali sono state le difficoltà maggiori che hai incontrato questa volta rispetto ai tuoi lavori precedenti? Perché adesso la gente ti conosce, quindi quando ti vede arrivare immediatamente chiudono le porte. In altri paesi fortunatamente non mi conoscono e anzi, secondo me lì non c'è neanche tanto la modalità del giornalista che va a chiedere conto ai cancelli degli allevamenti e quindi quando sono andata ho trovato molta, molta aggressività. In Germania il responsabile mi ha dato una bella spinta con diciamo il suo corpo, in Spagna urlavano, gridavano e un signore che è venuto perché è chiamato dall'allevatrice ha messo le mani addosso sul filmmaker, su Pablo D'Ambrosi, il regista insieme a me. Ma in realtà anche in Italia, in Italia quando siamo andati alla casa madre dell'azienda di pollo dove nell'allevamento ammazzano i polli abbastonate oppure sbattendoli contro il tubo metallico che porta il cibo ai polli, ammazzano gli scarti, come ha detto il responsabile dell'allevamento, quelli che sono solo una perdita in termini di mangime. Quando siamo andati alla casa madre per chiedere conto delle immagini che avevamo per sapere se loro sono a conoscenza, se avvallano queste pratiche, ci è bastato scendere nel parcheggio davanti al macello ma neanche mettere il cavalletto, proprio eravamo scesi dalla macchina, è arrivato il custode e subito ci ha messo le mani addosso cercando di prendere la telecamera. Ecco, sono tutti comportamenti che fanno capire che c'è tantissima umertà in questo settore che non si vuole né far vedere le immagini dei loro stabilimenti ma neanche rispondere a delle semplicissime domande. Ecco tu più vai avanti più ti tremano le gambe con tutto quello che stai facendo o invece stai acquisendo più forza? Le gambe mi tremano spesso, soprattutto in alcuni casi, per esempio prima della proiezione al Parlamento europeo mi tremavano tantissimo le gambe, te lo posso garantire perché avevo paura, non sapevo cosa sarebbe potuto succedere. Lì c'erano presenti dei lobbisti del settore della carne alla proiezione che hanno diramato diciamo così quello che avveniva presso i loro soci e altre cose, siamo sicuramente attenzionati, quando andiamo in alcuni luoghi per esempio per il documentario siamo andati in un allevamento nel Lazio dove caricavano i tacchini di notte per portarli al macello, quella era una situazione abbastanza pericolosa, siamo andati con i bodyguard e sono felice di aver utilizzato delle ulteriori precauzioni perché poi siamo stati seguiti per tre quarti d'ora di notte nelle campagne laziali e ovviamente non sono belle situazioni. Quindi che dirti, quando ci sono delle situazioni molto particolari o situazioni di pericolo mi continuano a tremare le gambe, sì. Oltre a denunciare, spiegare e descrivere tutto quello che succede, hai la possibilità anche di proporre delle iniziative diciamo di cambiamento a queste aziende? Assolutamente sì, più che alle aziende, alla politica, quindi noi abbiamo tre richieste che abbiamo pubblicato sul nostro sito che arrivano nei titoli di coda come chiusura del film ed è quello che noi vogliamo portare avanti con questo film che è Stop sussidi pubblici agli allevamenti intensivi, assemblea dei cittadini perché sulla politica agricola comune non siano i lobbisti a decidere ma siano i cittadini stessi di decidere cosa fare di questi miliardi e miliardi di euro. Io per esempio li userei per riconvertire questi allevamenti verso una transizione verde per puntare a una dieta vegetale come ci chiede la scienza, come ci chiedono le Nazioni Unite e poi la terza proposta è una moratoria top a nuovi allevamenti intensivi che in questi giorni anche Greenpeace sta portando avanti. Io spero che riusciremo a unire tutte queste voci e a farci davvero sentire perché sono proposte totalmente di buon senso ed è solo una mala fede che fa sì che ancora oggi finanziamo gli allevamenti intensivi e continuiamo ad aprire nuovi allevamenti intensivi. Di certo non è nell'interesse dei cittadini o degli animali o dell'ambiente, è solo nell'interesse del profitto di pochi. Quindi il cittadino che volesse aiutarvi, aiutare la causa può in questo caso fare un'offerta per la vostra produzione, aiutare per organizzare delle proiezioni in luoghi interessanti in giro per l'Italia e ci sono altre iniziative che possiamo promuovere in questa occasione. Trova tutte le informazioni su foodforprofit.com, stiamo anche diciamo veramente diffondendo il messaggio sui social, veramente sono scoppiati i social, ringrazio anche tantissimi personaggi famosi che stanno usando le loro pagine proprio per diffondere anche i nostri video, penso a Gabriele Muccino, penso a Elisabetta Canalis, persone che non sono anche nel circolo più ristretto di vegani o animal rights activists ma sono persone che parlano a pubblici più generalisti ed è anche quello su cui noi puntiamo tantissimo. Speriamo che il documentario venga visto da persone che non sono già convinte ma che magari con questo documentario come diciamo alla fine del trailer potranno aprire gli occhi. Benissimo, allora siamo tutti con te, siamo tutti uniti, grazie per la tua disponibilità e complimenti per quello che hai fatto anche questa volta. Grazie mille a voi, grazie Massimo.